Amici di Player Inside, benvenuti. Oggi questa puntata è dedicata ai belli, quindi pochi tra voi, ma ci divertiamo tutti. Ma perché le intro devono farci perdere sempre mille iscritti ogni volta? Vendo Nintendo Wii. È giusta, è giusta. Poi Nintendo Wii non c'è dal 2007. Però 30 euro una PS4? Vedo il bullismo. Parla con me, ti manderò una foto e il prezzo. Del bullismo? Vendi da faccia a faccia. Ma io non mi fido di questo. Ma ti dà un'esperienza di bullismo da vivo? Ma lui non lo vende, lo vede. Oppure lui lo vede. Non lo so. Zero euro tra l'altro. Ragazzi è molto inquietante questa inserzione. Rilevatore fighe di gas. Come saranno fatte? Andiamo avanti. Una vendita di una PS5. Play 5, molto tenuta benissimo. Più di 35 giochi coprati su Play Store. Il Play Store. Ah, tornano i giocattoli quelli brutti. Che cos'è questa? Questa è una K986, la forma fresca. Ti dà un aspetto luminoso. Ma che è una crema di bellezza? Che è? Hanno riciclato il... Sì, la descrizione. La descrizione di una... Di una crema antirubile. Non mi vengono le parole. Ottimo. Facciamo come fanno i nostrassi e mi completi le parole? Una scatola, come vedi? Vediamo cosa contiene nella descrizione. Contiene 107 carte, un libretto di regole e dei peli di orso. Molto. Molti peli di orso? Ah, Asmodee, spiegaci questa cosa. Magari in realtà ci sono peli di orso veramente sintetici, ovviamente sintetici. Ma perché è peli di orso? In negozio è presente la fava. Oh, i po'. La fava, eh. La tu fava. Buona sapersi. Per piacere non toccare. Se ti tocchi e si rompe, eh, so cazzi, bisogna risorcire ed risumere la conseguenza. What? Eh. Traduzione, please. Vabbè, in realtà posso dire, tu ci scherzi, secondo me c'è anche una sorta di razzismo, eh, in quello che dici tu, in quello che, come ridi tu, perché io ho capito tutto, è stato come razzismo. È stato molto efficace. Ma come? È stato molto efficace. Vedo il bullismo. Pulizione della pulizione, la pulizione, la pulizione, delle vettabili fruchi, è vediabile frutto, frutto, piedo, piedo, vediabile, macchina riusibile, USB, ciargiaggio, ciargaggio, vabbè, sì, ciargaggio, per solità, perditura, perdizione, 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 perdi. Ma che ciargaggio? Ma alla fine che è sta cosa? È vediabile. Non è Dior. Assistente domiciliare, anziani e disabili. Perché c'è Jerry Scott? Abbiamo una diapositiva di un anziano. Oh, è lui l'assistente domiciliare. È lui l'assistente, può darsi, può darsi. Frisitrice a gaz. Funziona. È più difficile dirlo così? Frisitri, sì. Vilnice, cance, organizzatore Cotopa Covello, scaffale in acciaio inossidabile. Oh, sappiamo che è una scaffale in acciaio inossidabile, molto cuscine, con seggio sull'astaggio, discrogno, discorreggi, pacciapotti, acqua, acqua, consetura, tradina. Vedete, le cose maiuscole sono inesistenti, parole inventate. Il resto ha senso. Ah, e abbiamo di nuovo colore Ibrahimovic. Tra l'altro, vedi, per decorare i regali dei bambini, per la cameretta, hashtag, chioccio le Ibrahimovic. L'hanno taggato pure. Onghian, una coppia di marchi maschili, maschi, calzini, incotone, colino, frizione, segno, simpare, cazzo lungo, cosse, magge, un magnacazze, abusini, scocchi, socks, calci, cicling. Perché in realtà non, perché, è perché, siccome è calza, quindi cal, cazza. Ma non ha senso. Mila getto, cinque pezzi, mosca che succhiano le ovulo, pesca la nosi inculano. Qui interessa la seconda frase. Abraham de Pape. Donna anziana che pizzica un cazzo. X-Knots 360. Che non è proprio l'Xbox, è un X-Knots. È difficile. Figa 20. Eh, ci mancava. Ci stava. C'era una volta che c'era capitato. Tanti anni fa. Tipo Figa 16. Però sono anni che non... Sono anni che qua Figa... Non se ne vede. Scarpe Sport a emozione zero. Proprio... Che le metti. Che tristezza. Tristezza. C'è, c'è un tabellone col punteggio del campo vicino, tu non puoi sostare là. Disponibile cera abbraccinzante. C'è una cosa... Dovevo dire cera abbronzante. Cera. Cera abbraccinzante. Mamma mia. Sparare alla velocità. Pistola, proiettile morbido a doppio scopo. Un duplice scopo. Filnale arma segreto. Che filnale. Ma che vuol dire? E che scusa sopra. Forze speciali ferro. Ferro, mi ho fatto ridere. È più di filna. Poi, pistola acustotica. Acustotica? Che c'è qui? Acustotico. Papace mobilizza. Tion passa energia positiva. Motociclo. Wento, cavaliere suoni di luci. Nelle corse sono il re. Stile autentico. Wento. Giochi play 3. Vendo giochi palestra station 3. No, palestra station mancava. Usati ma in buono stato. Prezzo trattabile. Palestra station 3 ragazzi. La vendita di un cellulare. Sì. Quindi un cellulare non si usava dal 2001. Un telefono. Ebbè, più di così. E no, di un iPhone. Scorreggia di un millimetro nell'angolo in alto a destra. E un graffio quasi invisibile. Vabbè. Per il resto è perfetto. Però la scorreggia c'è. Quella c'è. Cioè gliel'ho fatta appena... L'ho tirato fuori dalla scala. Subito. Posto privato divie di parcheggio. Divie. Perché quel to gliel'aveva già messo. Perché lo devo ripetere in divieto? No, esatto, usate quello. In divieto già c'è scritto to. Vendo playstation 2 30 euro. C'ha solo un gestic. Gestic. Tipo quelli che dicono... Invece di dire cioè... C'è. C'è. Maledetti. Sì. Xbox 369. Quindi. Quindi questa è già la... È la versione maggiorata. La versione pro. Maggiora, tu non lo sai, ma esiste. Però leggiamo la descrizione. Prendo, quindi non vendo. Sì. Prendo. Prendo. Il box è 360. Perfetta. Sì. Due joystick più giochi. Prendo il box è 360. In totale fa 369. Fiatopanda. Eh, sì. Ma 1900 euro me li devi dare tu. Facile, da utiliase. Quando, dove vuoi. Vendo food fucos a posto di totto, euro 3, 600 euro, taliandata, revisionata. Salve. Sono tornata. Sono a dieta. Un attimo. Me lo devi dire per tempo. Perché deve aprire apposta per me. Zitta. Anzitutto qui è solo tramite prenotazione. Lei ha prenotato? Sì. Allora va bene. Però è un altro ristorante. Fa benissimo tramite prenotazione. Dove vuole lei. Eh, voleva prenotare anche le pazze in Giappone e poi venire qua. Va benissimo. Va benissimo. Senta. Sì. Voglio di qualcosa, però... Ovvio. Eh. Abbiamo degli ottimi, degli ottimi spietini di rutti di mare. Non sono un po' pesanti? Tutta aria sono. Dentro sono vuoti. Se no abbiamo dei volgarissimi spietini, bustel cinese, a pollo, carne suino, farina e peperoncino. A dire, sono a pollo? Sì a pollo. Grazie per questi spietimi. Creed. Vada di Apollo. Vada di Apollo. E non ce l'abbiamo. Sa che cosa? Che siamo diventati un'afficina meccanica. E questo glielo volevo dire all'inizio. Una Fiato Panda ce l'avete? Sì. 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 Quindi signori, grazie per essere stati con noi. Sapete che questa parte serve a ringraziarvi e che quindi ci dilunghiamo. proprio onde fare in modo, onde evitare che non passi il vostro nome qui nella lista a fianco. Già sono passato. Ah va bene, ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao da like, non per forza questo video, ma possibilmente. Ciao. 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 Ciao.